Ci siamo sentiti, peraltro mi ha contattato direttamente il Ministro del Rio, io penso che lui sia una persona in gambo, l'ho dimostrato anche quando dirigeva Lanci, è una persona che ha esperienza unica da un punto di vista di enti locali, può essere il nostro grimaldello su Roma. Lui sa benissimo che le istanze degli enti locali in generale, del nord in particolare, viene dal Reggio Emilia, sono istanze particolari ma sono quelle istanze che portano a un territorio virtuoso e amministratori virtuosi, per cui io apro assolutamente un credito nei confronti del Ministro del Rio nella speranza che il Veneto possa portare a casa risultati da questa apertura di credito. La necessità di incontrarci velocemente per parlare delle partite che interessano a noi in materia di riforme, di autonomia e di tutto quello che sono costi standard, quello del quale parliamo sempre, ovvero dell'efficienza e della virtuosità.